L'occhi, farvi un applauso l'utile dalla Germania, ma da Ligone, che non so che dall'avventata, lui non è esattamente tedesco, non è male, esatto, lui è Ligure, però la strada della musica l'hanno portato in Germania, ma ogni tanto riusciamo a portarlo di qua. Allora, Stefano se lo presenterà un po', magari tutti, non lo so, ma magari dal suo ultimo disco Soul Binding, disco che lui ha qui, cerchiamo di fargli riprendere l'aereo, quando è domani? Eh, presto. Esatto, lui prenderà l'aereo presto, quindi cerchiamo di farlo tornare a casa con un, magari un molto più leggero, esatto, quindi di prendergli anche i suoi dischi a fine del concerto, lui fa un'apertura poi per i malumai Ubull Shiners, quindi buon divertimento a tutti, buona serata, buona serata, buona serata, grazie. Oh, bene, come state, tutto bene? Allora, io vengo da Berlino, insomma, di solito mi piace introdurre i pezzi e chiacchierare un pochettino, però il primo pezzo è che lo suono dritto così. E spero di iniziare, ti piace i rechers? Chiedo. Se da questo non ho rechers, se non sono problemi, no, intoleranze, no, non posso volerlo. Grazie a tutti i rechers, sono sempre... Grazie a tutti i rechers, sono sempre... Grazie a tutti 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 Grazie a tutti